www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete E allora, quale giro avete fatto? Eh, le strade Vincenzo, la strada non la conosciamo Dobbiamo fare tutto il giro dove verrà Lei di dove? San Cataldo San Cataldo, e lei di dove? San Cataldo San Cataldo, San Cataldo Mussomeli, Gondrada, Madonna delle Vigne Quindi state facendo questo percorso quando sono le 10 e 30 e 40 minuti in questo momento Abbiamo terminato tutto stamattina Ecco, ma quanto completerete il giro completo? Questo è già completo, già da stracinato Cosa vi rimane? Cosa vi rimane? Qua abbiamo finito, ora abbiamo altre zone che il responsabile del Comune ci indicherà a mano a mano Ecco, sempre nella contrada Madonna delle Vigne? No, tutta la zona di Mussomeli abbiamo Ha quindi una manutenzione straordinaria sul territorio di Mussomeli Tutta la zona esterna E quindi la zona di Mussomeli è una manutenzione straordinaria sul territorio di Michelangelo Sì, ma anche la zona di Mussomeli di Mussomeli La zona di Mussomeli è una manutenzione straordinaria sul territorio di Mussomeli Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.